Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Quest'oggi parleremo della nidificazione, ovvero come inserire una sequenza, facciamo finta, una sequenza A dentro una sequenza B e vedremo perché può essere molto utile, soprattutto ce ne accorgeremo nella prossima lezione ancora quando parleremo delle multivideocamere. Per il momento però vi ricordo www.fabioambrosi.it, il sito internet dove troverete l'elenco di tutte le lezioni di questo corso e nei prossimi mesi troverete anche i tutorial dedicati ad Adobe Audition, After Effects e Photoshop. Per il momento ci sono tutte le lezioni di questo corso base di Premiere, se vi fa piacere chiaramente iscrivetevi anche a questo canale YouTube. Cominciamo subito. Bene, lo dico e lo spiego in maniera semplicissima. Nidificare una sequenza significa inserire la sequenza A dentro la sequenza B. È troppo semplice forse, è vero? Vabbè, ve lo faccio vedere. Io creo una seconda sequenza, chiamo questa seconda sequenza sequenza B, sequenza B. Ho già creato una sequenza A e vado a prendere, ecco qui c'era già una sequenza B che non utilizzeremo, eccoci qua. Prendo la sequenza A e la vado ad inserire dentro la sequenza B. Olè! Cosa è successo? È successo sostanzialmente che tutti gli elementi presenti nella sequenza A vanno a finire dentro la sequenza B, ma sotto forma di un unico oggetto multimediale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io questo oggetto, che altro non è essere la sequenza A, posso tagliarlo, posso spostarlo, posso fare tutte quelle operazioni che comunemente farei con una normale clip. Posso anche aggiungere degli effetti, perché no? Io qui voglio inserire un effetto di color correction, ecco, non lo vedremo in questa lezione, lo vedremo più avanti, però ipotizziamo che io abbia la voglia di color correggere questa clip, ecco qua, ho fatto, ho color corretto questa clip. Chiaramente la clip originale è rimasta così, perché io non ho modificato l'immagine sorgente, ok, della sequenza A. Ho modificato la sequenza A, ma dentro la sequenza B. Ho applicato sostanzialmente un effetto. Quindi perché può essere molto utile nidificare una sequenza? Nidificare una sequenza può essere molto utile, per esempio, per fare ordine, no? Io prendo la sequenza A, la porto nella sequenza B e sostanzialmente evito, ecco, creo ordine in questo trambusto. Questa è una sequenza abbastanza semplice, ma immaginate la sequenza di un programma televisivo, o peggio, di un film. Sono sequenze veramente mostruose. Voglio farvi vedere questo tastino qui. I più attenti di voi avranno notato che all'inizio di questo tutorial ho riacceso questo bottoncino che mi era rimasto spento da un tutorial precedente. Perché cosa fa questo bottoncino? Quando è acceso e quando è spento. Ecco, adesso è acceso e ci permette di annidare le sequenze esattamente come avete visto fare fino ad ora. Ma se io spegnessi questo bottoncino che ha un nome irricordabile, ovvero si chiama inserire e sovrascrivere le sequenze come nidificazione o singole clip. Non ve lo ricorderete mai. Ricordate semplicemente che quando è acceso ci permette di nidificare in questo modo. Quando è spento invece e andiamo a nidificare, ecco, andiamo sostanzialmente, diciamo così, a portare tutto il contenuto della sequenza A dentro la sequenza B, ma senza creare un unico oggetto multimediale. Ok, per adesso ricordiamoci questa regola. Nella prossima lezione vedremo ancora meglio come si nidifica. Prima di abbandonarvi, però prima di concludere, voglio mostrarvi un altro modo per nidificare. Ipotizziamo di avere una situazione tipo questa. Ipotizziamo di voler prendere queste tracce video e nidificarle in un'unica traccia video. Bene, se io vado a cliccare con il tasto destro del mouse sopra una qualunque di queste clip e poi scelgo nidifica, posso ovviamente dare un nuovo nome alla nuova sequenza perché sempre una sequenza nuova sto creando, chiamiamola sequenza C, vedete che tutte le clip di prima mi sono state sostanzialmente trasformate in un'unica clip, in un'unica sequenza. Se io vado ad aprirla, ecco, mi ritrovo le sequenze nidificate di prima. Prendeteci la mano, fate un po' di esercizi, un po' di prove, poi se non capite ovviamente al solito provate a commentare, questi video e cercherò di rispondere quanto prima. Per il momento mi fermo, nel prossimo tutorial parleremo delle multi videocamere, di come montare una clip video formata da più clip riprese da più videocamere. Per adesso ricordo www.fabioambrosi.it, ricordo anche se vi va di mettere un like a questo video, di condividere e se vi fa piacere chiaramente di iscrivervi a questo canale YouTube. Grazie ancora, al prossimo tutorial, ciao!